A Pieve di Tego un fine settimana che unisce spettacolo, divertimento e solidarietà con il decimo Memorial Nicola Ferrari. L'evento è organizzato dall'omonima Onlus per il decimo anno consecutivo, con l'obiettivo di raccogliere fondi per la ricerca contro la leucemia. Ieri sera l'apertura ufficiale dell'evento presso il Teatro Salvini con lo spettacolo dei Cattivi di Cuore. Questa sera è in programma dalle 19.30 una serata con hamburger e rosselle nel piazzale della sezione locale della Croce Rossa Italiana. E' inoltre previsto il concerto della Combricola del Blasco, formazione che propone i successi di Vasco Rossi. Tanti gli appuntamenti da non perdere anche nei giorni successivi. Domani, venerdì 20 luglio, sempre alle 19.30 in piazza Carenzi, andrà in scena il concerto per un sorriso, presentato dall'attore e regista imperiese Simone Gandolfo, con la musica di Mauro Vero, Tinto De Verano, The Fantastic Blue e Alex Smith. Sotto i portici di Corso Ponzoni sarà invece allestita la mostra fotografica con il circolo Castelvecchio.